Lunedì 14 maggio mi trovo in compagnia con Olga Marino da Corleone, Thomas Garofalo da Ragusa, Maurizio Baglieri da Ragusa, Dario Pedrino da Grigento, Vincenzo Palmieri di Cammarata. Che cosa accomuna queste persone che da diverse provenienze sono qui davanti alla cattedrale di Agrigento al termine di che cosa? Di un lungo cammino. Di dove? Siamo partiti da Palermo e abbiamo tagliato un po' tutta la Sicilia a metà fino ad Agrigento. Quando siete partiti? Siamo partiti sabato giorno 6. Siamo arrivati oggi, io lo rifarei di nuovo, sono leggermente stanco ma... Ricordiamo a chi ci ascolta di che cosa si tratta? Si tratta di un cammino che fai... Dalla cattedrale di Palermo via... Sì, perché lo facciamo? Ancora lo dobbiamo scoprire. Sì, ce ne siamo tanti. Al termine di questo cammino che tu hai fatto con chi è questo? Eccolo qua, anche lui pellegrino. Anche lui cane pellegrino, sì. Vi ha fatto compagnia. Sì, per tutto il cammino. Che cosa ti ha maggiormente colpito, ecco, di questo percorso che avete fatto? La bellezza del paesaggio che ancora, nonostante noi siamo siciliani, non avevamo scoperto. Bellissimo. C'è un posto particolare? Sì, a me personalmente è piaciuta molto la tratta per arrivare a Suterra. Suterra. A te? Io sono stata molto colpita dalle storie delle persone che ti passano accanto. La bellezza del paesaggio è in giudia da questo punto di vista. La bellezza del paesaggio è in giudia da questo punto di vista. La bellezza del paesaggio è in giudia da questo punto di vista. La bellezza del paesaggio è in giudia da questo punto di vista.